Disastro ambientale e danno erariale sono le ipotesi di reato formulate dagli avvocati Vincenzo Di Nanna e Monica Passamonti che hanno depositato in procura a Pescara e presso la Corte dei Conti un voluminoso fascicolo sull'azione dei giorni scorsi lungo l'arenile di Pineto sia in termini di ripascimento morbido sia per quanto riguarda la presenza di trattori e rimorchi per la rimozione di ghiaia. Dal disastro ambientale si pasta non solo al danno erariale ma direi di più al disastro erariale. Il comune di Pineto, noi siamo partiti da Pineto ma solo come luogo di osservazione privilegiata ma il discorso è estendibile a tutta la regione Abruzzo perché i piani di intervento approvati dalla regione ancora utilizzati sono superati obsoleti e dannosi e risalgono a 2001. Gli studi fatti nel 2007 dal Ministero dell'Ambiente hanno però certificato i danni provocati dall'azione del ripascimento che stando proprio ai rilievi tecnici accentuerebbe il fenomeno dell'erosione. L'avvocato Di Nanna durante i suoi controlli a Pineto è stato anche minacciato da chi stava manovrando i mezzi in spiaggia. Non gradivano la presenza di questo ficcanaso che faceva riprese ma l'unica cosa è che ho dovuto allontanarmi un po' addirittura ho fatto delle riprese stando in acqua dove le ruspe non avrebbero potuto raggiungermi. È chiaro a questo punto che ci dovrà essere l'apertura di un fascicolo di indagine da parte della stessa procura. L'avvocato Passamonti è certa che qualcosa dovrà ora accadere. Ci aspettiamo un intervento duro da parte della procura della Repubblica. Noi l'abbiamo depositata alla procura Repubblica di Pescara perché riteniamo in Prims che ci sia una responsabilità della regione che aveva dettato queste linee guida. Quindi il disastro ambientale regione Abruzzo che andrebbe poi ad assorbire anche la responsabilità del comune di Pineto perché dobbiamo partire da un presupposto che benché la regione Abruzzo abbia dato delle linee guida il fatto che il comune di Pineto, l'amministrazione di Pineto le abbia recepite fa sì che vadano in concorso. Intanto di nanna un sospetto. L'erosione è un'erosione artificiale indotta, se non addirittura, questo non posso dirlo, programmata.